Rifornivano le piazze dello spaccio di Saione e piazza Sant'Agostino. La loro base operativa era un appartamento nel quartiere Belvedere dove gli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo al termine di una complessa ed articolata operazione hanno scovato decine e decine di dosi di cocaina. In manette sono così finiti quattro pusher. Ieri pomeriggio gli agenti durante un servizio di osservazione in zona Saione hanno infatti arrestato un 47enne tunisino clandestino e pluri pregiudicato. L'uomo è stato colto in flagranza di reato mentre vendeva una dose di cocaina ad un tossico dipendente nella zona di via Vittorio Veneto. Il 47enne con sé aveva 11 dosi tra cocaina ed hashish e le chiavi di un appartamento in zona Belvedere ritenuto una vera e propria centrale dello spaccio di cocaina. È così scattata la perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione sono stati trovati altri tre cittadini tunisini, tutti irregolari sul territorio nazionale ed altra sostanza stupefacente. In totale gli agenti hanno infatti scovato 150 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato cittadino. Nella camera di uno dei quattro, 48enne, ritenuto il capo del gruppo, sono stati trovati 50 grammi di cocaina non ancora confezionata, altra sostanza già pronta da vendere in questo caso, scovata poi nelle stanze degli altri due, un 29enne ed un 27enne, entrambi incensurati. Per tutti e quattro è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutti sono stati portati presso le camere di sicurezza della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.